Siamo all'anno zero dei trasporti. Il senatore del Partito Democratico Santini gela l'ipotesi del filobus a Padova, tornato alla ribalta dopo le dichiarazioni del sindaco Bitonci. Subito dopo il suo insediamento nel giugno del 2014, il sindaco leghista non ha portato avanti la realizzazione della seconda linea del tram, perdendo i finanziamenti statali. Ora, questi finanziamenti non sono disponibili per la sua idea di filobus. Il sindaco sta raccontando una storia diversa dalla realtà, purtroppo, aggiungo anche purtroppo. La realtà riguardava esattamente il tram. Il tram era finanziato, la seconda linea, aveva la possibilità di essere realizzata in termini non solo di progettazione già accettata, ma anche di risorse disponibili con la legge di stabilità del 2013 a partire dal 2014. Purtroppo, al momento opportuno, il Comune ha lasciato cadere questo progetto e quindi sostanzialmente adesso bisogna ripartire da zero. Su quei fondi, quei fondi sono stati utilizzati per altre linee tramviarie, quindi non sono più utilizzabili. Altri fondi, ovviamente, sono collegati alla capacità di progettazione del nostro Comune, delle amministrazioni in generale del nostro Comune, che purtroppo, al momento, è ancora molto ipotetica, perché l'idea del filobus, come dice e ammette la stessa amministrazione, lo stesso sindaco Pitonci, si scontra contro una serie di problematiche difficilmente superabili. La lunghezza, il collegamento, appunto, di filobus aereo, tutte questioni che a Padova sono state già da molto tempo, negli anni scorsi, nei decenni scorsi, scartate per motivi di tipo ambientale e di tipo estetico. Grazie a tutti.